Quest'anno Desiree, al Salone del Mobile 2019, presenta le nuove collezioni in collaborazione con Jay Jalan, Matteo Tumi e Antonio Rodriguez, Mark Sadler e Sessu Shinobu Ito. Jay Jalan progetta per noi il divano Boe e la poltrona AB, prodotti caratterizzati da una forma corvilinea e da un'immagine scultore. Il divano Isto e i tavolini Arlon, invece, di Matteo Tumi e Antonio Rodriguez, sono caratterizzati da forme e proporzioni. Mark Sadler, invece, presenta un'evoluzione del nostro best seller divano Monopo, con nuovi elementi e nuovi schienali lineari ad angolo meno profondi. Infine, Sessu Shinobu Ito, presenta i tavolini Nemo, sono caratterizzati da un piano in vetro che ricorda l'antica arte da saper fare degli artigiani di Murano. Tutta la nuova collezione Desiree 2019 è caratterizzata da una linea elegante, sobria e nei materiali e nelle finiture c'è un riferimento alla nostra territorialità e a Venezia.